Quanti di voi sanno che combustibile usano i razzi? Uno dei più usati è il cherosene altamente raffinato, noto anche come RP-1. Questo tipo di carburante viene utilizzato nei motori a propellente liquido come il Merlin-1 di SpaceX, insieme a un ossidante come l'ossigeno liquido. Ci sono poi motori a idrogeno-ossigeno liquido, come ad esempio il motore RS-25, utilizzato dallo Space Shuttle della NASA. Alcuni razzi sfruttano invece il metano liquido, l'ammoniaca e l'idrazina, a seconda dell'applicazione e delle esigenze del razzo. L'idrogeno liquido è un carburante molto efficiente, in quanto ha un elevato potere calorifico e soprattutto produce solo vapore acqueo come prodotto di combustione, ma molto difficile da trattare e immagazzinare. Oggi avete scoperto che carburanti utilizzano i razzi. Iscrivetevi per non perdervi le prossime pillole.